Media Plaza con le parti che hanno anche permesso concretamente per quanto riguarda il circuito camerale di organizzare e di rendere concreto questo evento, di sponsor, le grandi e importanti realtà del territorio che si sono messe in gioco per questo nono congresso mondiale delle Camere di Commercio. Salutiamo la dottoressa Paola Gheddo di Kemiatao, benvenuta innanzitutto, raccontiamo chi siete, cosa fate. Certo, volentieri. Kemiatao è un'azienda chimica, facciamo prodotti chimici per la lavorazione della pelle, i nostri clienti sono le concerie, concerie in Italia, a Darzignano, Santa Croce, Solofra e dove nel resto del mondo dove ci sono i grandi gruppi conciari, quindi l'Argentina, il Brasile, in India, siamo presenti in Corea, in Russia, in Turchia, là dove si conciano le pelli nei principali centri mondiali. Quindi si tratta di un'azienda internazionalizzata la vostra, quanto guardate all'estero in rapporto invece al mercato italiano? Ci racconti anche un po' i vostri bilanci, i vostri equilibri? Ci teniamo tanto al mercato italiano, in Italia si fanno, si continua a fare la qualità. Le nostre concerie vendono ai grandi brand, da Chanel a Hermès a Louis Vuitton, quindi il mercato italiano è importantissimo, è fondamentale. Al tempo stesso dobbiamo guardare anche al mercato estero perché il business bisogna seguirlo, bisogna andare là dove ci sono i grandi gruppi, i più importanti gruppi mondiali adesso sono in Brasile, pensiamo a IOTABS, pensiamo a CBR, pensiamo alla Corea, all'India. Quindi ci siamo internazionalizzati nel corso degli anni, diciamo che al 50-50, 50 Italia, 50 estero. Per questo l'importanza di conoscere il più possibile anche le Camere di Commercio, di venire a contatto con tante realtà. Cosa pensa di questo congresso, di queste tre giorni? Allora, è la prima esperienza per noi, di solito partecipiamo alle fiere internazionali di settore che sono a Milano, a Hong Kong, a Chennai. E questa è stata per noi la prima esperienza in un ambiente diverso, ma un'opportunità fondamentale per venire a contatto con tante realtà mondiali che ancora possiamo aggredire, possiamo conoscere e incontrare. Perché decidi essere parte per supportare questo evento? Sì, consideriamo questo momento in Turin, in nostra città, un momento molto importante e vogliamo essere qui, assolutamente. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie. Torniamo presto dalla Media Plata. Grazie.